In questo momento ho scampoli di partita in cui stai dimostrando di poter essere utile, però immagino gli aspetti di poter giocare anche di più rispetto a quello che stai giocando adesso, no? Sì, la volontà è sempre quella di giocare sempre di più, di cercare di mettere più in difficoltà possibile il mister. Però sono contento, dai, nei piccoli spazi che mi sono ritagliato comunque ho sempre fatto quello che dovevo fare, anche se c'è sempre da migliorare, però mi aspetto di più, ma piano piano posso fare qualcosa di importante. Sì, ti sa, per lo scorso, brutta sconfitta, insomma, siete usciti un po' ridimensionati da questa partita contro il legge, no? Sì, è stata una brutta sconfitta dove non siamo partiti molto bene, però abbiamo fatto un buon secondo tempo, però era troppo tardi secondo me, però c'è tanta voglia, anche dagli sguardi che ho visto stamattina, c'è tanta voglia di fare, di rimediare subito quella prestazione e sono convinto che sabato ci rifaremo. In definitiva, la sensazione è che il Catanzaro non sia a quel livello, no? Non sia forte così come il Lecce, come magari potrebbero essere altre squadre, o più altre squadre di questo campionato. Però, insomma, il Catanzaro comunque è una squadra che se la dovrà giocare, anche in queste partite, cioè, insomma, la sconfitta io lo devi dargli brutta perché per il modo in cui è arrivata, no? Insomma, bisogna fare in modo che voi dimostriate, tutti quanti, naturalmente, dimostriate che anche in queste partite sulla carta difficilissime, però deve poter si giocare diversamente, no? Sì, potevamo fare di più. Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, però ci stiamo già lavorando, ne abbiamo già parlato tra di noi assieme all'allenatore. Ripeto, c'è tanta voglia di rifarci subito. Ripeto, c'è tanta voglia di rifarci subito.